Ripartire dal dialogo con la base e allargare il fronte del centro-destra senza perdere di vista i valori che hanno contraddistinto l'azione politica dell'unico vero partito di opposizione a non essere sceso a patti con il centro-sinistra di Renzi. L'onorevole Giorgia Meluni incontra a Trani i sostenitori di Fratelli d'Italia per tracciare obiettivi e programmi del suo partito in vista del congresso straordinario che dovrebbe essere convocato entro il mese di gennaio. Il territorio è la scelta, la gente è la soluzione. Io non ho mai creduto e non crederò mai nei partiti chiusi che ritengono e che credono che le istituzioni appartengano a loro. Le istituzioni appartengono agli italiani, i partiti sono lo strumento attraverso cui si fa la selezione, ma se gli italiani vengono esclusi dalle scelte i partiti non hanno motivo di esistere. Si riparte dalla base quindi e dai timi che dovranno essere al centro della proposta politica di Fratelli d'Italia, soprattutto in materia di sicurezza nazionale. Giorgia Meloni ribadisce pieno sostegno ai governi legittimi che combattono il terrorismo, la necessità di controllare moschee e centri islamici nei quali dovrà essere proibito fare propaganda di odio e integralismo, ma soprattutto l'urgenza di frenare l'immigrazione incontrollata e di rimpatriare i clandestini. Alle prossime elezioni comunali, conclude il presidente di Fratelli d'Italia, il centrodestra, composto anche da Liga e Forza Italia, si ripresenterà compatto proponendo candidati unitari e dimostrando di avere ancora la forza di porsi come seria alternativa al governo di Matteo Renzi. Sicuramente un centrodestra che prova a fare chiarezza rispetto all'opzione di alcuni movimenti, primo fra tutti i Fratelli d'Italia che non hanno mai sbandato nel rapporto con la sinistra, che non hanno sostenuto il governo Letta, che non hanno sostenuto il governo Renzi. Quindi oggi tutta la coalizione decide di saldamente tornare a fare opposizione. Non c'è nulla di innaturale in questo, si cerca di immaginare delle sintesi, noi su tanti temi ci siamo ritrovati con la Lega di Salvini, sul tema del rapporto con l'Europa, sul tema della gestione dei flussi migratori, su altre questioni ci troviamo meno. Per noi ovviamente centrale l'unità della nazione, dello Stato, lo Stato nazionale oggi è l'unico che può competere con lo strapotere delle burocrazie europee, crediamo particolarmente nel valore e nelle potenzialità del Mezzogiorno italiano, veniamo da un convegno su questo con il Presidente Emiliano, abbiamo tante proposte come Fratelli d'Italia per il Sud Italia, escluso dalla legge di stabilità, le porteremo in Parlamento, vedremo come si comporteranno anche gli altri. Grazie.